Ciao a tutti, mi hanno chiesto cosa penso delle persone che non lasciano un feedback dopo che hanno ricevuto un'offerta. Beh, secondo me è doveroso. Scusate se utilizzo questo termine, ma secondo me è una forma di rispetto nei confronti del lavoro altrui. E vi spiego il perché. Per fare un preventivo bisogna essere concentrati e pensare bene a ciò che si scrive. Perché pur utilizzando anche un'offerta standard, bisogna dedicare tutto il tempo necessario in quanto se poi successivamente diventa un contratto, bisogna rispettare quello che c'è scritto nell'offerta. Se consideriamo il tempo che serve tra capire il bisogno, fare almeno un incontro o due, scrivere e preparare l'offerta, fare la spiegazione dell'offerta e fare la trattativa, ci vogliono sempre più di due ore. Ecco perché ho usato il termine doveroso. Perché dedicare due minuti per scrivere una mail o per fare una telefonata è una forma di rispetto del lavoro altrui. Ditemi voi, se siete d'accordo e cosa ne pensate, così ne discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione.